salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi mangerò farfalle al tonno cucinate da mia mamma eccole qui guarda qua che bonta guarda sono appena tornato dal lavoro e c'ho una fame guarda molto cremose con la cipolla poi mamma mia che ti dico e che te lo dico a fare guarda guarda buonissimo il mangiare della mamma è sempre sempre il top buono veramente buono perché non è diciamo che il tono non si stacca quando il tono si stacca non è fatto bene qui invece rimane attaccato come se fosse proprio parte della crema è buonissimo buonissimo allora qua to buonissimo io ne vado proprio pazzo pazzo lavare il piatto non serve perché io già l'ho fatto a presto l'ultimo pezzo mamma mia ho mangiato in meno di 5 minuti per ora è tutto e ci vediamo ad un prossimo video ciao